Genos spray termoprotettivo, un prodotto in grado di avvolgere il capello e schermarlo dalle alte temperature, proteggendolo quindi dal calore del phon ma anche dal calore delle piastre e dei ferri arriccianti. Grazie alla particolare formulazione spray non bagna il capello, quindi perfetto da utilizzarsi sul capello umido prima dell'asciugatura ma perfetto anche per l'uso quotidiano tutti i giorni prima della piccola ripresa delle punte con la piastra in modo da proteggere quotidianamente il vostro capello.